Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi che ho cercato di migliorare e rivisitare un pochino Allora, questo glitch era stato postato sul forum in un modo e io ho voluto portarlo in un'altra maniera e ho visto che funzionava ragazzi Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno delle LGRH8 e delle auto che vogliamo duplicare Allora, le auto che vogliamo duplicare dovranno stare nella base operativa ai numeri 1, 3 e 5 E le A e LGRH8 dovranno stare ai numeri 2, 4 e 6 A questo punto dovremo essere in una sessione ad amici in maniera tale che potremmo riunirci ed avere un amico che ci aiuta A questo punto il nostro amico che cosa dovrà fare? Dovrà andare in una missione di Gerald, Simeon, Martin, quello che vuole Dovrà richiedere nel telefono una missione dei contatti E dovrà entrare in questa missione ragazzi e fermarsi lì con menu chiuso Noi non dovremmo fare nulla, non andremo neanche ad unirci al nostro amico Però il nostro amico dovrà tenere attiva la sessione in questo modo Quindi a questo punto il nostro amico dopo aver fatto richiesta di una missione Andrà nella missione Scusate ragazzi ma sono raffreddato Anzi è raffreddatissimo Dopodiché noi quando il nostro amico sarà entrato nella missione Che cosa dovremmo fare ragazzi? Nulla, dovremo andare start online e dovremo fare trova nuova sessione Ci sarà qualche taglio nel video ma solo perché il video era lungo ragazzi Quando saremo in una nuova sessione andremo dove c'è il pallino azzurro ragazzi E qui avviene il glitch Dovremo scambiare la prima con la seconda, la terza con la quarta e la quinta con la sesta ragazzi Come sto facendo io A questo punto una volta fatto questo procedimento L'unica cosa che dovremmo fare è cambiare un qualcosa Non so, gli occhiali, io per esempio cambio gli occhiali Giusto per far salvare la storia in pratica Per far salvare il movimento che noi abbiamo fatto in questa sessione ragazzi Quindi una volta fatto ciò che abbiamo aspettato che compare il pallino arancione Andiamo in cerca amici E ovviamente andremo a riunirci nella sessione dove sta il nostro amico Una volta qui ragazzi dobbiamo andare nel pallino azzurro E qui ci renderemo conto dell'effettivo cambio che è avvenuto Come vedete dove dovrebbe esserci comunque una LGRH8 C'è una Sultan Quindi che cosa significa? Che tutte le auto si sono duplicate Vedete quelle che io sto evidenziando per il gioco sono delle Sultan E quelle che Quelle altre ovviamente stanno così insomma Quindi a questo punto che cosa dobbiamo fare ragazzi? L'unica cosa che dobbiamo fare è uscire Notate la targa ragazzi Quando noi andremo ad uscire Automaticamente cambierà la targa Quindi per fare questo glitch non servono targhe personalizzate Andiamo a vedere Quando usciremo fuori avremo la targa cambiata C'è un punto del video dove si nota proprio il momento in cui si cambia la targa da sola Quindi ci allontaniamo un po' dalla nostra base operativa Andiamo a richiedere il nostro centro operativo mobile Se non ve lo fa richiedere dal veicolo Scendete e lo richiedete E poi tornate al centro operativo mobile Il centro operativo mobile ragazzi Deve avere un veicolo dentro Almeno per come l'ho fatto io Io in questo centro operativo mobile avevo un veicolo E ho anche un garage con delle faggio che mi serviranno in seguito Adesso andremo a vedere Adesso vi faccio vedere Aspettate che Allora qui io ho delle faggio Come vedete ho tre faggio ragazzi Ma ne andrò ad utilizzare solamente una Perché comunque ho anche altre faggio sparse Andate verso il centro operativo mobile Entrate dentro E automaticamente il veicolo che è dentro il centro operativo mobile Andrà a finire dentro la base operativa ragazzi E non scusatemi ragazzi Andrà a finire Sì Dentro la base operativa E dopo di che usciremo fuori Saremo Motorcycle Club E chiameremo un faggio Io qui ho un botto di faggio ragazzi Che stavo provando un glitch Ho pure una cifra di oppressore Ogni volta che trova qualcosa in macello Comunque sia Andremo a chiamare una faggio E la metteremo al posto del Della Sultan Che avremo qui dentro In questo modo Invece di realizzare Una duplicazione alla volta E ogni volta Stare a cambiare sessione Così potremo realizzare Tre duplicazioni alla volta Se ci fossero stati venti posti Nella base operativa Avremmo realizzato Dieci duplicazioni alla volta Scusate ragazzi Ma mi ha squillato il telefono Quindi come dicevo Andiamo a inserire La nostra faggio Che abbiamo appena richiesto Dentro il centro operativo mobile E automaticamente L'auto che avremo Appena messo dentro Il centro operativo mobile Si sposterà Nel garage In cui avremo Chiesto la faggio Per dire Io magari la faggio L'ho chiesta nel garage Che avete visto prima E l'auto si sposta automaticamente In quel garage Per farvi capire meglio Ve lo faccio vedere Quindi come vedete ragazzi Io in questo garage avevo Tre faggio Adesso ne ho due Perché la Sultan Si è spostata in quel garage A questo punto ragazzi Dovremmo uscire Con le altre auto Che apparentemente Sono su Ultan Insomma no Come vedete Anche qui Cambia la targa Usciremo E faremo Lo stesso procedimento Anche per questa auto Solo che in questo caso Ora nel centro operativo mobile C'è il faggio E il faggio Andrà a finire Nella base operativa Io ovviamente Dopo chiamerò Il faggio Che è nella base operativa Non chiamerò più I faggio Che stanno Nel Nel Diciamo Nel garage E via A proseguire Con le duplicazioni Ragazzi In questo caso Ho usato Solamente un faggio Torneremo Nella base operativa E andremo a fare L'ultima auto Ragazzi Il glitch È veramente Semplicissimo È un peccato Che Diciamo Ci sono Solo così pochi Posti auto Perché Sennò Altrimenti Avremmo potuto Duplicare Più auto Insomma E avremmo avuto La possibilità Di fare più Cloni Alla volta Sto provando A vedere Se si può Realizzare In garage Semplici Questo glitch Però Non credo Si possa Realizzare Perché Se si poteva Realizzare Penso che Qualcuno Lo avrebbe Già portato Quindi È inutile dire Che Non credo Che si possa Realizzare Perché al momento Il Il bug È nella base operativa Ovviamente Tutti sapete Che quando esce Qualcosa di nuovo Base operativa Questo Quello E quello Ogni volta È sempre Quella La parte Buggata E quindi È quella Che ci consentirà Di fare Glitch Speriamo Che non Paccino I glitch Anche Nella Base operativa Come è successo Nel CEO Come è successo Nelle Baus Come è successo In tutte Le varie Proprietà Che abbiamo Perché altrimenti Non potremo Fare più glitch Ragazzi E poi Un'altra cosa Per esempio Che non condivido Di alcuni Youtuber Che Continuano a portare Glitch Uno dietro l'altro Anche se l'altro È già funzionante Io non vedo L'utilità Di portare Questi glitch Perché poi Comunque Vengono pacciati Tutti insieme Diciamo Con un unico Fix Vengono risolti Tutti i bug E quindi Diciamo Che ci attacchiamo Un po' Al cazzo Insomma No ragazzi Come avete visto Ragazzi Vi ho fatto vedere Che abbiamo Tutte quante Le duplicazioni Spero che questo video Vi sia stato utile Anche se è un po' Lunghetto Però spero Che abbiate capito Bene Il tutto Detto questo Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Attro Ciao a tutti Grazie.